Benvenuti all'edizione della notte del telegiornale di Telemolise. L'allevatore della gamma Alfredo Faiella ha inscenato oggi nell'aula di Palazzo Moffa una vibrata protesta nei confronti del governatore Frattura. Ha chiesto il pagamento delle spettanze maturate che ammontano a 60 mila euro e ha rivendicato la necessità di riaprire l'azienda per poter continuare il suo lavoro. Vediamo il nostro servizio. Una protesta solitaria prima dentro e poi fuori da Palazzo Moffa quella di Alfredo Faiella, storico allevatore della gamma che rivendica 60 mila euro di arretrati e la possibilità di continuare a svolgere la sua attività. Il piccolo imprenditore da più settimane cerca in vano di incontrare il presidente della regione Paolo Frattura ma a suo dire il governatore lo evita. L'attacco di Faiella è partito nell'aula di Palazzo Moffa proprio mentre si stava approvando la legge di riordino del sistema di protezione sociale per i più deboli. Ma sai cos'è? Questi hanno messo la cenere sul fuoco a tacere la situazione ma il problema è grande e non lo vogliono risolvere perché non sono capace a risolvere e quando uno non è capace a risolvere non può fare né il presidente né altre cose lo devono risolvere. Molti del Consiglio quando facevano la minoranza sapevano parlare ma parlano male, ma non parlano come prima perché non risolvono i problemi. Qua ci sono mille famiglie che stanno in difficoltà e questi signori qua non gliene frega un cavolo perché loro a fine di un mese, anzi stasera loro mangiano, la fine del mese si vanno a prendere stipendi loro stanno bene, loro fanno un continuo bla 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 sono un anno, un anno e mezzo che fanno solo bla 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 ma non risolvono il problema. Ieri sera l'ennesimo problema che ho sentito, abbiamo un incubatore che lavora ma non lavora per i molisani, lavora per la gente che sta al nord. Noi abbiamo bisogno di 40.000 uova, 40.000 pulcini, non ci possono dare perché c'è sta aia che si frega tutto lui. Per qualcosa, pochi dipendenti che stanno, i dipendenti che stanno là dentro lo prendono lo stipendi o non lo prendono lo stipendi e a noi ci vogliono pagare. Io non chiedo, non voglio nessun piacere, nessun favore, voglio i soldi della mia famiglia dove i miei figli hanno lavorato, hanno annettato sangue, voglio questi soldi qua. Io c'ho un invalido a casa, al 100% che ha 61 anni, non ho chiesto mai un cazzo! L'azienda resta chiusa ovviamente. L'azienda è chiusa e il presidente ha detto che se chiudeva l'azienda ci pagava tutti, pagava tutti quelli che avanzavano. L'azienda è chiusa e lui non sta dando i soldi a nessuno e ancora avanza, dalla GAM e dalla Vicola Molisano. mi devono dare i miei soldi, i soldi della mia famiglia, di mia moglie e di mia figlia, mi devono dare i soldi. Io sarò qua tutti i martedì, quando faranno il Consiglio, sarò qua! Stupro sedento, quando mi vede a me, si va a nascondere! Entra per le poste, quarto secondaria, quando vede che sto qua davanti. Perché è questo? Se hai dato una parola, presidente, la devi mantenere. Gli uomini, la parola, come si dice, i bue si prendono per le corne, gli uomini per la parola. Tu hai dato una parola, mi devi pagare! Mi devi pagare! Quanti soldi devi avere? Io dalla GAM e dalla Vicola avanzo 60.000 euro. Mia moglie e mia figlia, non io, mia moglie e mia figlia avanzano 60.000 euro. Mi devono dare l'accordo di 31.000 euro. Abbiamo fatto un accordo, ci hanno fregato 31.000 euro dell'accordo. Che si sistemava la cosa. Dove stanno? Me li devono restituire. Hanno fatto l'accordo per avere alla Liberatoria alcuni allevatori. Hanno dovuto rinunciare i loro soldi. Ma ci passiamo! Allevatori per andare a lavorare con un'altra ditta. Per avere la Liberatoria hanno dovuto firmare una carta che rinunciavano i loro soldi. A sti deninguenti! Questa gente che lecca attorno a questi qua. Quello è l'errore dell'Italia. Gente che lecca per avere qualche centesimo. Invece no, io devo lavorare. Per mandare in casa di integrazione a uno certo personaggio. Gli hanno regalato 60.000 euro per mandare a casa a gente che fatiava. 60.000 euro! E questa è una lettera, eccola qua. 60.000 euro per mandare a casa. 40 padri di famiglia! Non è meglio che ne devono a quelli là. Dividevano un po' questi 40 e gli davano 1.500 euro giasco. Ma che c'ho? Io tengo la quinta elementare! L'amaro sfogo solitario di Alfredo Faella ben rappresenta la drammatica situazione di migliaia e migliaia di famiglie molisane che soffrono in silenzio. Proprio per questo forse l'insensibilità e l'indifferenza di chi gestisce il potere della regione è pressoché totale. E la Giunta regionale ha deliberato che da Campochiaro a Venafro è area di crisi il riconoscimento dello Stato di complessa precarietà produttiva, economica e occupazionale, ha spiegato il Governatore Paolo Frattura, per mettere in campo le migliori strategie innovative di intervento per il rilancio industriale. Un atto importante e urgente, ha aggiunto il Presidente, che sarà presentato al Ministero dello Sviluppo Economico per l'approvazione finale. In virtù della rilevanza nazionale che assumono le problematiche legate alla GAM con la filiera agroalimentare, all'ITR, all'indotto dell'industria della moda e alle imprese del settore metalmeccanico nell'area di Isernia e Venafro, ha concluso Frattura. E oggi è tornato a riunirsi il Consiglio regionale che al primo punto all'ordine del giorno ha convalidato la elegibilità del Consigliere Michele Iorio, sulla quale si sono astenuti Domenico Ioffredi, Salvatore Ciocca, Filippo Monaco, Antonio Federico e Patrizia Manzo. L'Aula ha anche approvato la proposta di legge ed iniziativa della Giunta regionale, che riordina il sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali in favore delle persone più deboli. Il Consiglio ha poi nominato il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione, composto da tre membri scelti con estrazione a sorte tra gli iscritti nell'apposito elenco. Il Presidente della Regione Frattura intanto ha nominato Claudio Pian, Presidente di Sviluppo Italia del Molise, e Nicandro Ottaviano, Commissario per le Comunità Montane della provincia di Isernia. E adesso parliamo delle prossime elezioni amministrative di fine maggio. Oggi si è svolto a Campobasso il sorteggio per stabilire l'ordine dei candidati sulla scheda elettorale. Intanto sono arrivati gli ultimi verdetti della Commissione elettorale. E' stata riammessa la lista Realtà Italia che sostiene Antonio Battista. Facciamo il punto con Giovanni Minicozzi. La Commissione elettorale circondariale ha proceduto, mediante sorteggio, ad assegnare l'ordine di presenza sulla scheda elettorale dei cinque candidati a sindaco della città di Campobasso e delle rispettive liste collegate. In premessa, il Presidente della Commissione Lombardi ha comunicato che, dopo il ricorso presentato dagli interessati, la lista denominata Realtà Italia è stata riammessa alla competizione elettorale, poiché sono stati sanati i vizi procedurali che avevano determinato l'esclusione di tre candidati, facendo venir meno in tal modo il numero minimo previsto dalla normativa in vigore. Dunque, le liste collegate ad Antonio Battista ridiventano 11 su un totale di 18. Subito dopo, la Commissione ha proceduto al sorteggio che ha determinato il seguente ordine. Al primo posto, l'uscente Gino Di Bartolomeo, collegato con l'unica lista Forza Italia, a seguire Antonio Battista e nell'ordine le sue 11 liste a partire da Udc, PSI, Italia dei Valori, Comunisti Italiani, Segnale Civico, Realtà Italia, Sinistra Ecologia e Libertà, Centro Democratico, Lab, Popolari per l'Italia e PD. Al terzo posto, Roberto Gravina e la sua lista Movimento 5 Stelle. Al quarto, Pino Saluppo con la lista Il Capoluogo. E infine, a quinto posto, Michele Scasserra con quattro liste collegate che sono nell'ordine Polo Civico, Città Amica, Campobasso Nuova e Democrazia Popolare. E nel pomeriggio sorteggiato l'ordine dei candidati e delle liste anche al Comune di Termoli. Primo Michele Marone, seguono Paolo Marinucci, Nicola Di Michele, Angelo Sbrocca e Remo Di Giandomenico. Estratto a sorte anche l'ordine delle liste che verrà ripetuto in caso di riammissione dopo il ricorso dell'Udeur, lista al momento esclusa dalla competizione. Adesso torniamo al voto di Campobasso. La cultura può rappresentare un elemento di rilancio e sviluppo per la città e l'idea presentata dal candidato sindaco del centro-sinistra Antonio Battista insieme a Francesca Carnevale che è una delle candidate della lista del PD. Il servizio è Diana Maria Di Matteo. Creare nuovi spazi di aggregazione culturale, spazi riservati anche ai bambini che a Campobasso mancano e l'idea di Francesca Carnevale, candidata alle comunali nella lista del PD, è subito sostenuta dall'aspirante sindaco del centro-sinistra Antonio Battista. La Carnevale che è bibliotecaria all'unimo, l'insegue è un sogno, quello di dare vita ad una biblioteca per bambini. Abbiamo due belle biblioteche a Campobasso, abbiamo una biblioteca, una multimediateca, la bibliomediateca e abbiamo anche la biblioteca provinciale Albino che sono molto fornite, a parte le universitarie nelle quali io lavoro. Però abbiamo anche esigenza di spazi per i bambini. Penso al parco, penso alla Villa de Capua dove sono andata a fare le letture quest'estate, penso alla Fondazione Cultura dove abbiamo un piccolo spazio per fare le letture. Quello che ci manca è uno spazio dedicato da 0 a 18 anni. Le esigenze dei bambini da 0 a 3 anni non sono quelle dei 15-18, però tutti insieme possono convivere, come succede nelle altre città italiane, in particolare il sud è molto sensibile ai bambini, io le giro le biblioteche e quindi ho modo di verificarlo, Campobasso manca e io gliela voglio dare questa opportunità, la voglio dare ai bambini di Campobasso, la voglio dare ai genitori, la voglio dare a tutti, in fondo anche ai nonni. Sono momenti di vita insieme, si costruisce un percorso, la lettura è fondamentale, oggi tra qualche giorno, il maggio è il mese dei libri, quindi insomma ci sono tante cose. Se dobbiamo tentare di riportare un minimo di attenzione sulle città di Campobasso, se dobbiamo incentivare gli investimenti, se dobbiamo generare posti di lavoro, la filiera della formazione legata all'università e legata a tutti gli eventi che noi possiamo generare a Campobasso in tutte le direzioni e la filiera turistico-culturale sono quelle che noi dobbiamo attenzionare per portare flussi di persone nella nostra città. La cultura che valorizza le tradizioni locali, che valorizza le bellezze locali, ma non soltanto quelle della città di Campobasso, ritengo quella dell'area vasta intorno a Campobasso, è uno degli ambiti da potenziare, da valorizzare e da riscoprire, perché tutto questo poi diventi un'offerta che possa essere promossa a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Un'Europa vicina alla gente, all'interno della quale l'Italia abbia una voce forte, non più succube dello strapotere della Germania, è la posizione espressa da Aldo Di Giacomo, candidato alle europee per l'Italia dei valori. La candidatura è stata presentata a Campobasso nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche il responsabile regionale del partito, Cristiano Di Pietro, e l'assessore regionale, Pierpaolo Nagni. Entrambi hanno ribadito la necessità di un cambiamento di rotta dell'Europa, affinché punti per davvero sulla crescita e lo sviluppo, le politiche di austerity messe in campo, fino ad oggi, hanno detto gli esponenti dell'Italia dei valori, non hanno creato gli effetti sperati. I comuni di Cerce Maggiore, Riccia, in Molise, Santa Croce del Sannio e Castelpagano, in provincia di Benevento, hanno deliberato di avviare una class action per avere chiarezza definitiva sul caso dei pozzi di petrolio nel territorio di Cerce Maggiore. Hanno deciso di affidare ad un team di professori universitari la ricerca della verità. Un altro passo in avanti verso la conoscenza della realtà dei fatti, ha commentato il consigliere regionale Salvatore Ciocca, anche per accertare eventuali responsabilità collegate all'inquinamento che oggi è certificato dalle analisi dell'ARPA. Adesso andiamo alla provincia di Isernia, dove sono stati pagati gli stipendi ai dipendenti. L'agitazione del personale ha dunque prodotto i suoi effetti, le retribuzioni sono state regolarmente accreditate. Il clima però resta incandescente. C'è il consigliere della destra, Mancini, che preannuncia nuove iniziative. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Gli stipendi sono stati pagati, ma lo stato di agitazione del personale alla provincia di Isernia continua. Già si pensa alle prossime retribuzioni, se non verranno chiariti i costi dell'accordo economico con la banca che svolge il servizio di tesoreria per via Berta, potrebbero essere a rischio anche i futuri e i monumenti dei dipendenti dell'amministrazione provinciale. Per Giovan Carmine Mancini, della destra, si tratta di un evidente stato di crisi operativa e gestionale dovuto non solo all'Aggiunta, ma anche alla dirigenza di via Berta. Abbiamo una parte politica inadeguata. Dall'altra parte abbiamo una parte dirigenziale che continua a fare i propri interessi. C'è questo connubio assolutamente vergognoso fra questa parte politica inadeguata e questi dirigenti che continuano a farla da padrona e i dipendenti della provincia che lavorano, che cercano di lavorare, sono senza stipendi. Perché sono incapaci nell'amministrare, o meglio, a volte sono capaci soltanto nell'amministrare i propri tornacontri, i propri interessi. La situazione adesso è esplosa. Noi continueremo a stare a fianco delle persone che lavorano, i dipendenti della provincia di Sernia. Come siamo a fianco del popolo della provincia e dell'intera regione molise che sta soffrendo da tanti anni ormai e continua a soffrire per delle scelte completamente sbagliate. Non c'è futuro, non c'è sviluppo. Rotiamo tutti intorno a grandi imprese e aziende ormai iper decotte e non possiamo pensare solo a loro, ma dobbiamo pensare a tutte le micro, piccole imprese che sono la struttura vitale della nostra regione. Lei farà qualcosa per questo stato di tensione del personale? Organizzerà un incontro, una conferenza stampa? Insomma, difenderà questo personale? L'ho sempre fatto, in settimana faremo una conferenza stampa proprio per rendere pubblica questa situazione ancora una volta nella speranza che anche la nostra gente capisca e che poi scelga bene quando è chiamata a votare. Parliamo ancora della provincia di Sernia che ha organizzato un concorso di idee per aiutare i giovani che intendono avviare un'attività imprenditoriale. Oltre ad un finanziamento i progetti migliori riceveranno assistenza fino all'avvio dell'impresa stessa. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Startup Your Life, questo è il nome del progetto finanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'Intesa con l'UPI, l'Unione delle Provincie Italiane. A Sernia il ruolo di capofila è stato assegnato all'ente di Via Berta. L'obiettivo è quello di stimolare i giovani a fare impresa selezionando le migliori idee imprenditoriali per lo sviluppo di servizi turistici, culturali, ambientali e sociali. Per partecipare bisogna avere un'età compresa fra i 20 e i 35 anni, essere disoccupati o inoccupati, avere un diploma, una laurea in tasca ed essere residenti in Molise. In tutto verranno scelti 20 progetti. I migliori 7 riceveranno anche un finanziamento di 5.000 euro. Ma soprattutto i giovani prescelti saranno assistiti in tutta la fase che va dall'idea iniziale alla concretizzazione del progetto. I giovani parteciperanno ad un percorso di formazione e orientamento. Noi accompagneremo i giovani nel trasformare l'idea imprenditoriale in realmente impresa, in impresa. Oltre a questo ci sarà un supporto tecnico alla redazione del business plan con degli incontri di 1-2 ore individuali con i ragazzi per la costruzione proprio del business plan. Annalisi di mercato e analisi della fattibilità economico-finanziaria dell'idea imprenditoriale. Faremo delle visite studio, quindi accompagneremo i giovani in realtà un po' più avanti della nostra cercando di fargli conoscere esperienze di successo in idee imprenditoriali analoghe alle loro. Per rispondere al bando c'è tempo fino al 29 maggio. Per illustrare i dettagli del progetto e per chiarire ogni dubbio agli interessati nei prossimi giorni la provincia organizzerà degli incontri a Castelpetroso, Miranda, Colli, Venafro, Bastogirardi e nella sede dell'Università a Pesche. La cronaca. I carabinieri di Rotello hanno arrestato un uomo di 50 anni di origini napoletane che deteneva illegalmente una beretta calibro 6,35 con matricola a brasa. Tra le accuse anche la ricettazione. Alla fine di gennaio era stato denunciato per minaccia aggravata, ingiuria e lesioni personali. La vittima riferì ai militari di essere stato aggredito dall'uomo per futili motivi e con una pistola verosimilmente giocattolo. In seguito alle indagini i carabinieri hanno perquisito la casa del 50enne e hanno invece trovato l'arma vera e anche quattro cartucce. Gli uomini della forestale di Frosolone invece hanno bloccato un cercatore di tartufi di 53 anni che stava raccogliendo il pregiato fungo in un periodo vietato senza tesserino di idoneità e con attrezzi non consentiti. L'uomo aveva anche cercato di fuggire ma senza successo. Gli è stata combinata una sanzione di circa 11 mila euro. Sono state contestate anche violazioni al codice della strada e la sua macchina è stata sottoposta a fermo perché priva di assicurazione. 40 studenti del liceo artistico di Termoli sono stati i protagonisti di un progetto per il restyling del terminal degli autobus. L'iniziativa è stata possibile grazie ad una convenzione tra la scuola e la società GTM in servizio di Fabrizio Occhionero. Un'opportunità per mettersi alla prova fuori dalle aule e lasciare il segno in una struttura frequentata ogni giorno da molti pendolari. 40 studenti del liceo artistico di Termoli sono stati coinvolti in un progetto dedicato al restyling del terminal degli autobus. Grazie alla convenzione siglata tra la scuola guidata dal preside Antonio Francese e la società GTM che si occupa del trasporto urbano in città, le classi terza e quarta B insieme alla quinta A si sono messe al lavoro prima per progettare l'intervento e poi per allestire il cantiere. Il liceo artistico è uscito dalla possibilità di poter decorare il terminal e abbiamo applicato appunto varie fasi per poter procedere. Quindi l'extempore che sarebbe la progettazione di un bozzetto e poi nel realizzarlo appunto su queste colonne e quindi poi abbiamo usato la tecnica dei graffiti quindi usando bobolette spray, dando lo sfondo. Abbiamo dato molto colore al terminal anche perché era morto, era spento e grazie a queste decorazioni siamo riusciti a renderlo più vivo. Numerosi pendolari che hanno notato gli studenti all'opera mentre aspettavano gli autobus, ora il terminal diventerà più accogliente. Avete risposto con entusiasmo a questa iniziativa? Sì perché ciò che noi svolgiamo dentro le classi l'abbiamo riportato qui fuori quindi c'è tanto colore, tanta allegria quindi diamo più a correre alla vita. E adesso andiamo ad Isernia dove in Consiglio Comunale è stato discusso il progetto dello stadio del nuoto. La ditta che dovrebbe realizzarlo però ha chiesto una variazione al progetto. Vediamo. Se ne doveva discutere in Consiglio Comunale ma una variazione al programma finanziario collegato al progetto ha fatto slittare la discussione alla prossima seduta. Parliamo del programma di trasformazione della piscina di Isernia in un moderno stadio del nuoto con la realizzazione di una seconda vasca che sarà affiancata a quella esistente. Ma una variazione al piano finanziario ha fatto slittare la discussione di un ambizioso progetto su cui maggioranza e minoranza ancora non si pronunciano ufficialmente. Il Comune di Isernia vuole o non vuole questo progetto di finanza privata che prevede lo stadio del nuoto è contrario, è favorevole, ha dei dubbi, delle perplessità. Qualcuno parla anche di una specie di ritrosia politica a sposare questo progetto. No, non c'è assolutamente nessuna ritrosia politica. La maggioranza ha già manifestato chiaramente l'intenzione di essere favorevole alla realizzazione di un progetto di questo tipo. Ci sono problemi burocratici, giuridici, amministrativi perché la proposta di progetto presentata prevede la iscrizione di ipoteca a carico del Comune. È chiaro che come amministratori abbiamo l'obbligo di escludere qualsiasi forma di responsabilità, soprattutto patrimoniale, da parte del Comune. Per cui oggi sarebbe dovuta venire inserita al quarto punto dell'ordine del giorno per l'approvazione o meno del progetto presentato. Solo che è intervenuto un fattore nuovo e cioè è stata depositata, indirizzata a tutto il Consiglio Comunale e quindi a tutti i consiglieri una nota da parte del soggetto proponente con la quale sostanzialmente si modifica la precedente proposta. Per cui corre l'obbligo al Consiglio Comunale sottoporre l'attenzione di tutto il Consiglio e di tutti i consiglieri questa nuova proposta che nel dettaglio non possiamo ancora dire di conoscere che rimodifica sostanzialmente il quadro per cui credo che sia opportuno ad ulteriori dimostrazioni del fatto che c'è assolutamente volontà di realizzare l'opera non ci sono pregiudizi soprattutto di natura politica sul soggetto proponente riteniamo che si debba procedere con un rinvio per risottoporre la questione alla struttura la responsabile del procedimento e chiedere il parere eventualmente di qualche organo terzo così come sollecitato peraltro dal Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere negativo al progetto presentato. Operata al femore al 111 anni intervento da record quello effettuato all'ospedale Santimoteo di Termoli dove l'equipe del reparto di ortopedia ha rimesso a posto la frattura riportata dall'ultracentenaria residente ad Apricena ma legata a Campomarino dove vive una nipote la paziente da Guinness si chiama Maria Giuseppa Robucci ha sorpreso tutti per la sua straordinaria forza e le ottime condizioni di salute. Archeofestival è invece l'evento promosso dal Ministero per i beni culturali che è stato organizzato per l'intera giornata di oggi nell'area archeologica di Altilia tanti visitatori comprese diverse scolaresche anche gli alunni del liceo Tasso Classico di Roma sentiamo Tonino Danese Indietro nel tempo di quasi 2000 anni al tempo dei Romani lo scenario l'area archeologica di Altilia a Sepino calzolai che lavorano il cuoio per i sandali fabbri e addetti al conio delle monete piombo fuso colato in una forma una cucina dove viene spiegato il cibo degli antichi romani la sua conservazione tante le scolaresche in giro nella vasta area alla scoperta di una gloriosa storia che appartiene alla nostra terra l'iniziativa è Archeofestival organizzata dalla Direzione per i beni culturali e paesaggistici del Molise con la sovrintendenza e l'università che ha curato le visite guidate noi siamo Gaia lo spin-off accademico dell'Università degli Studi del Molise fatto da archeologi, storici dell'arte archivisti e architetti oggi il nostro ruolo è sicuramente quello di un po' di un supporto scientifico nell'educazione culturale della manifestazione faremo laboratori di scavo archeologico di catalogo proprio per far capire bene poi la storia del nostro territorio perché poi serve anche a capire meglio la nostra identità culturale tra i visitatori una cinquantina di studenti del liceo classico Tasso di Roma in un gemellaggio con il liceo classico Mario Pagano di Campobasso il sito tra l'altro è molto ben organizzato ha un'equipe di archeologi che sicuramente sotto la guida del sovrintendente ha dato prova di essere molto efficiente sono venuti anche nel nostro liceo a farci delle lezioni preparatorie con la collega per rotta del liceo di Campobasso abbiamo fatto anche un lavoro insieme e oggi siamo qui a visitare gli scavi e il pomeriggio ad assistere a uno spettacolo che i ragazzi del liceo di Campobasso hanno preparato per i loro colleghi romani una giornata per vivere e conoscere come si svolgeva la vita nella città Sepinum in epoca sannitico romana un tuffo in un passato suggestivo in un patrimonio storico architettonico che appartiene al Molise è un patrimonio apprezzato anche dai turisti stranieri come questa coppia olandese noi abbiamo una casa a Doliola è vicino Vasto per noi è vicino è più vicino di Roma è più vicino di Napoli e di Pompei ed è bello uguale è molto bello molto bello una trentina di anni fa ci si passava con le macchine qui e quindi insomma poteva essere aggredito in quel momento era ancora il momento che si potevano aggredire questi posti con le strutture moderne per fortuna questa cosa non c'è stata e quindi abbiamo questa meraviglia che in qualche modo ci porta in Italia e nel mondo e ora consentiteci di parlare di una nostra storica collaboratrice che oggi ha coronato uno dei suoi obiettivi parliamo di Angela Venditti che alla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Molise ha discusso la tesi di laurea in economia aziendale la state vedendo Angela ha illustrato in modo brillante il suo lavoro ha conseguito così la laurea festeggiata da familiari, amici e colleghi di Telemolise ad Angela vanno gli auguri e le congratulazioni di tutta la struttura dell'editore Quintino Pallante il direttore Manuela Petesce e tutta la redazione giornalistica e adesso andiamo a San Martino in Pensili sconto alla rovescia per la Carrese domani l'attesa a Corsa con i tre cari trainati dai buoi che ogni anno richiama in paese un pubblico numeroso vediamo è l'evento più atteso dell'anno dalla comunità di San Martino in Pensilis tanto che in questi giorni sono numerosi gli emigrati che rientrano da tutta Italia e anche dall'estero per seguire la Carrese in onore di Salleo la Corsa dei Carri trainati dai buoi anima di un paese molto legato alle sue tradizioni percorso ideale della storia che accompagna le generazioni e coinvolge anche i bambini un anno di impegno prove preparativi per le associazioni dei giovani dei giovanotti e dei giovanissimi e il sogno di barcare per primi l'arco di porta San Martino nel 2013 sono stati giallorossi a vincere per il secondo anno consecutivo partiti primi come prevede il regolamento hanno mantenuto la testa della corsa fino all'arrivo secondi giovani che nonostante un problema alla partenza sono riusciti a raggiungere poi a superare nella zona del cambio il carro dei giovanissimi quella del cambio è una caratteristica della corsa di San Martino che si snoda lungo un percorso di circa otto chilometri qui a metà del tracciato i due iboi della partenza devono essere sostituiti con gli altri che porteranno il carro fino all'arrivo grande la concitazione che accompagna tutta la gara organizzata su un percorso messo in sicurezza l'attesa dei sostenitori dei tre partiti per una competizione da batticuore bene con la carrese di San Martino termina l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona nottata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti